Buonasera a tutti, sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste. Come vedete sono le 22.11 di oggi venerdì 15 febbraio 2013 e come sempre vi do il benvenuto alla nostra videoanalisi settimanale. Settimana che è stata ricchissima di appuntamenti, tra un pochino li ricorderò tutti. Prima però vi ricordo ancora una volta che la pagina Facebook in modo molto porfico è diventata un pochino il centro di tutta l'attività didattica con aggiornamenti continui e anche in tempo reale e quindi se vorrete come sempre digitate su Facebook, andate a cercare Prof. Ste, fate like e riceverete tutti gli aggiornamenti. Tra l'altro appunto ringrazio tutti coloro che in modo costruttivo commentano insieme a me quello che accade anche sui mercati e poi volevo ringraziare tutti quelli che si sono diciamo, hanno avuto modo di essere con me nel corso che si è tenuto ieri a Legnano organizzato da FXCM che poi era una replica del corso di settimana scorsa sul metodo Prof. Ste applicato al Forex. Vi ricordo che sempre grazie ad FXCM tra poco sarà possibile organizzare degli incontri di tutor in privato insieme a me presso la sala trading che appunto FXCM sta predisponendo con pochissime persone, due o tre persone al massimo e avremo la possibilità di fare insieme trading reale e quindi sicuramente di applicare non solo la teoria ma appunto anche la pratica del metodo Prof. Ste accanto a questi poi ci saranno in futuro anche altre giornate come appunto quella di ieri e di settimana scorsa che comunque è stata ieri trasmessa anche in streaming quindi molte persone che ringrazio l'hanno seguita in diretta da casa e di nuovo ho da poco pubblicato la registrazione integrale sono oltre tre ore di reale didattica come sempre completamente gratuita che potete appunto seguire e che riguarda il corso che è venuto fuori molto bene devo dire quindi molto utile e che vi dà una più che approfondita idea di quella che è l'applicazione del metodo Prof. Ste al Forex tra l'altro e sempre parlando di mercati un po' inusuali per quello che mi riguarda sapete che faccio prevalentemente future o quasi esclusivamente direi future come vedremo tra un attimo la videoanalisi per quanto riguarda le obbligazioni vi consiglio il corso imminente che Gabriele Bellelli terrà in una forma molto interessante perché sono una serie di puntate in streaming e che potete seguire quindi comodamente a casa vostra tengo molto a questo corso perché ritengo che l'investimento in obbligazioni sia un elemento che non può mancare dalla conoscenza devo dire di tutti noi non solo di chi fa trading online il corso di Gabriele capita puntino perché appunto non avendo né tempo né modo di approfondire a fondo quella tematica così tanto da poterne fare un corso e della didattica preferisco consigliarvi appunto persone come Gabriele che oltre che un amico è sicuramente un professionista è un didatta molto valido che vi aiuterà a meglio comprendere come investire e aumentare la propria conoscenza del mondo delle obbligazioni che ripeto non può mancare questo può essere poi anche una base per quello che riguarda il trading in obbligazioni che come sappiamo molte persone praticano quindi sul sito poi andate e trovate o sulla pagina facebook tutte le informazioni sul corso appunto di Gabriele detto questo andiamo a vedere quello che è accaduto questa settimana ovvero niente nel senso che settimana scorsa vi ricordate avevamo fissato i limiti di una piccola congestione che poi ha portato sostanzialmente ad una conferma del fallimento del six out il proseguimento in laterale non è altro che l'inizio di una congestione ABC congestione ABC che in qualche modo non è altro che a sua volta una pausa più lunga in un movimento e che quanto più lungo diventa il movimento laterale tanto più rende possibile ed è qui probabile l'uscita dai due lati quindi è in buona sostanza questo è l'aerostox grafico giornaliero questo è il DAX grafico giornaliero anche il FIB vediamo si è messo in laterale e in un range ancora più stretto se volete degli altri due anche se sappiamo che il nostro indice fino alle elezioni è sempre da prendere un po' con beneficio di inventario anche perché ci sono molte storie locali che lo stanno in qualche modo condizionando comunque e di nuovo fin tanto che rimaniamo all'interno di questo confine nulla possiamo dire della situazione nel senso che dobbiamo attendere un'uscita confermata da questo range che non è più un 6 out ma è diventata una correzione ABC come se avrete voglia e tempo di approfondire sul libro viene ben descritto ricordo a chi non mi conosce che sulla barra laterale destra c'è un pochino tutto quello che vi può introdurre al mondo profste della didattica riguardante ovviamente il trading online fino al libro che come sempre potete leggere gratuitamente nel libro c'è un lungo discorso sulla correzione ABC sicuramente importantissima che sintetizzo qui per motivi di tempo non è altro che una correzione un pochino più lunga e che ripeto più perdura più rende qui probabile l'uscita dai due lati quindi di nuovo porsi dei limiti rispetto alla stessa area di congestione e attendere che si esca in modo confermato lo ripeto in modo confermato dalla stessa questo è quello che dobbiamo fare è la tematica più importante delle prossime sedute quella sulla quale concentrare la propria attenzione fin tanto che si rimane qua dentro l'abbiamo visto anche oggi nella giornata di venerdì appena conclusa si è molto erratica guardiamola in intraday questo è l'euro stocks un pochino più negativa che positiva ma di base c'è stato un avanti e indietro e poi una discesa sul finire ma che ha portato sostanzialmente ad un nulla di fatto per quanto riguarda i grafici giornalieri perché vedete che siamo ancora pienamente all'interno della congestione stessa tra l'altro volevo farvi notare che il nostro FIB non ha ancora se volete chiuso il gap del 2 gennaio perché la chiusura del 28 dicembre era a 16.285 e i minimi della congestione sono ancora un pochino più alti della stessa questo giusto come nota di colore nel senso che sappiamo che il FIB specialmente in questo periodo preelettorale sta veramente facendo storia a sé due parole importanti sul mercato americano l'S&P continua a viaggiare sui massimi storici elemento da non sottovalutare questa lateralità di questa settimana non è altro che per ora un'accettazione di quei rialzi che più o meno l'hanno portato oltre i famosi 1510 infatti vediamo che i minimi di quest'area sono proprio corrispondenti all'incirca proprio a quei 1510 che prima rappresentavano i massimi storici anche il Nasdaq ha recuperato rispetto al fatto che fino a poco tempo fa rimaneva ancora un pochino indietro nel senso che non aveva ancora violato i massimi del 2013 quelli del gennaio scorso appena fissati cosa che è stata fatta sul finire della scorsa settimana e poi la lateralità ha portato per ora di nuovo ad un'accettazione di questo diciamo superamento di questo riallineamento di un Nasdaq che dal 2009 in poi aveva sempre sovraperformato e invece negli ultimi mesi era rimasto un pochino indietro anche una parola sul Bunda attenzione perché la correlazione inversa con i mercati azionari rimane ma è sempre da prendere in secondo piano come accade da alcuni mesi e direi ormai anni spesso il Bunda ha dei movimenti molto forti e repentini che non vengono poi riflessi sul comportamento degli azionari o magari a volte vengono riflessi un giorno dopo oppure il giorno dopo il Bunda rientra e va ad annullare quello che aveva fatto il giorno prima quindi è da seguire sempre la correlazione inversa con i mercati azionari rimane ma ripeto sempre in secondo piano perché non sempre è presente non sempre si conferma ripeto questa correlazione inversa quindi sempre da seguire ma da tenere un pochino in secondo piano come del resto siamo abituati a fare lo ripeto da alcuni mesi o anni benissimo allora di nuovo grazie a tutti vi ricordo la pagina facebook per seguire ogni giorno tutta l'evoluzione della didattica profste le tre ore di video riguardanti il corso di ieri per chi non l'avesse seguito sono un ottimo modo per approfittare di questo weekend e approfondire le proprie conoscenze e infine di nuovo vi ricordo il corso sulle obbligazioni sull'investire in obbligazioni di Gabriele Belelli che è sicuramente un elemento interessante di approfondimento che consiglio a tutti di Gabriele Belelli